iniziamo sulle mani a tempo con vento battete sempre le mani iniziamo i vostri nomi vai Simone Giovanni da dove venite sempre con le mani vai Lodi e Lodi allora ma voi le Lodi le dite la mattina pomeriggio la sera tutte le sere le Lodi te le dici la mattina pomeriggio la sera tutte le sere allora vogliamo un bacio in diretta sulla guancia per i nostri amici del convento oh bravi bravi allora cosa fate ribello nella vita? io ho i gay ok e te? anch'io bene non voglio sapere come fate l'amore perché sono cose vostre allora siete pronti a festeggiare il vostro amore al ristorante convento? si facciamo un brindisi per i gay del convento? sui bicchieri e come si dice nelle migliori puntate VIVA Lodi non stai 4 4 5 5 6 5 Grazie.